Possiamo iniziare La C-Sound Eventi nasce nel 2014 dall'idea di Frank Cotardo e dalla mia mente, in questo caso DJ Morph Per dare la possibilità a chi sceglie la musica del wedding di sapere che ci sarà un evento di classe E che ci sarà un evento importante, nel giorno più importante della loro vita Nasce dalla collaborazione di due musicisti, in questo caso Frank Cotardo, pianista La mia mente è DJ Morph, in questo caso DJ e producer Il nostro claim è un solo evento al giorno, il vostro Curare un solo evento per un'agenzia, in questo caso, è sintomo di grande responsabilità Nessuna fretta, nessun tipo di vincolo, di orario Siamo liberi e siamo decisi a portare lo spettacolo all'interno del wedding C'è un pool di persone professioniste che cura quello che è l'aspetto musicale A 360 gradi, anche perché comunque noi non siamo chiusi a visioni musicali Quindi da quella che può essere la ballerina di musica folk, musica pizzica Visto che comunque siamo pugliesi Fino al jazz, che tanto viene apprezzato durante i wedding Uno degli aspetti fondamentali che teniamo particolarmente a curare in C-Sound Eventi E la cura, il dettaglio, ogni aspetto comunque del vostro evento o del vostro matrimonio La cosa importante per noi è ascoltarvi, ascoltare quello che avete da dire Come volete, diciamo, organizzare, come immaginate il vostro giorno importante Per noi questo è fondamentale Sulla base di questo noi realizzeremo un music planning assolutamente personalizzato In linea, con i vostri gusti e con le vostre vite A noi non rimane altro che invitarvi a visitare il nostro sito web www.csoundventi.com Dove troverete i nostri contatti, le formazioni, le band, i musicisti Tutto ciò che è inerente alla nostra organizzazione Ci vediamo di là Ciao Ciao Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!